A me piace molto suonare in questo brano che si chiama Diego Mihan. Chi era Mihan? Chi era Mihan? E' arrivato un certo Mihan. Chi era questo Mihan? Chi lo sa? Bene, quello dico io. Forse lei lo sa. No, non lo sa. Chi lo sa? Vieni qua, vieni qui. Un applauso al signor Mihan. Chiara, chiara. Ci racconta la storia di Mihan. No, sa solo che era un sorbonista. No, c'è il bandone. Già è una grandissima cosa. Infatti Mihan è la nostra sorbonista che viveva a casa dei genitori di Tito Puente. Quindi Tito Puente ha conoscito questo sorbono e si è messo a suonare anche il sassofono tra tutte le cose, tra Tribalis, Bongo, Tongass, eccetera, eccetera, pianoforte. E quindi ha tenuto questo pezzo a Mihan. Diego Mihan, 1957. Come lo valla? 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A presto! Viego, viego mijan, pp bailar Mi cha cha cha, mi cha'tego Viego, viego mijan, pp bailar Mi cha cha cha, me bo Viego, viego mijan, pp bailar Mi cha cha cha, mi Radio Yeti Viego mijan, pp bailar Pa'�라 cinde y zì, mi cha 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti